Il nuovo PD riparte anche dalla città di Torre del Greco e lo fa con la candidatura a sindaco di Luigi Mennella. Ieri sera l'iniziativa al Circolo Mazza. Per far fronte ai disagi legati al maltempo la società di trasporti Ea ha predisposto una serie di possibili servizi su gomme. Due blitz antidroga per i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che in due mirati servizi hanno arrestato due persone. Per interventi alla rete fognaria predisposto di vieto di transito veicolare dalle ore 21 di stasera alle 6 del 23 novembre. È stata inaugurata sabato nella Basilica di Santa Croce l'esposizione di Cammei a cura di Domenico Accusato e previste anche dimostrazioni dinamiche della lavorazione del Cammei. Ancora un K.O. per la Turris che cade a Liguri anche di fronte al Pescara. Zona play out sempre più vicina. Prossimo impegno domenica prossima a Messina.